Ok, l'ho fatto di nuovo, ho comprato i libri solo perché costavano poco Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Oggi faccio vedere qualche libricino che ho trovato a 90 centesimi E li ho presi perché mi intrigava molto, conosco gli autori ma non avevo questi titoli E vorrei capire un pochettino da voi se avete letto qualcosa Non lo so, ditemi voi, io mi fido dei vostri consigli per insieme alla nuova lettura Questi mi piacciono le edizioni ma anche una semplice frase scritta sul retro Quindi li ho comprati così e sì lo so, sono molto fortunata a trovare certi libri a 90 centesimi Lasciamo stare, mi sento già abbastanza vergognata Ok, il primo, ho trovato due edizioni che mi piacciono La prima è edizioni Est che andavano a un prezzo di 4.000 lire E ho trovato 5 titoli che mi sono piaciuti Il primo è Michael Bulgakov Il romanzo più famoso è Il maestro e Margherita Io invece ho trovato Diorama Moscovita La frase che rappresenta nel retro di questo libro è Costruiranno nonostante tutto, forse questa è la fantasia di un fiducioso Moscovita E sono dei racconti, poi aprendo ho visto che è stazionato i racconti mi pare E non lo so, ditemi Poi il mio carissimo Proust Il raggio di sole sul balcone Avere un piacere dell'immaginazione, un piacere reale, il solo vero piacere dei poeti E anche questi penso siano racconti Washington Irving L'alambra al chiaro di luna E questi, questo era aperto e l'encellofonato Sfogliandolo mi sembra un viaggio attraverso la Spagna Dopo il viaggio in Portogallo Quello in Spagna, perché no, oppure poche pagine La frase che riassume il libro sul retro è la seguente L'effetto del chiaro di luna sulla alambra ha qualcosa di magico Pare d'essere un palazzo incantato dalle mille e una notte Sono molto curiosa comunque Poi ho trovato Boris Alpasternak La fanciullessa di Zengia Lujvers Lujvers Ok Quel mattino uscì dall'infanzia nella quale si era ancora trovata la notte prima Questo ho letto qualche pagina, qualche capitolo Non esageriamo E' stato un libro molto particolare Uno di quei libri che mi piacciono tanto Lui, George Gordon Byron Il Corsaro E vabbè, vabbè, cosa chiediamo Byron Più qualcosa che ha a che fare con pirati corsari E la frase è la seguente Seguente Non c'è niente di lui né traccia Nel segno che possa rivelar dove conduca la sua vita Nell'angoscia O dove disparato abbia chiuso i suoi giorni Vedremo un po' questo Corsaro Ultimi due libri sempre a 90 centesimi Questa casa editrice Fratelli Melitta Editori A un prezzo di 12.000 lire E ho preso Fonclist Fonclist Penso si lega Fonclist I racconti Io però sono trippata da morire con i racconti Sto fiendo la Mansfield E vabbè, vabbè Per ora con i miei racconti io riesco a rilassarmi A viaggere con la mente Anche se ovviamente certi racconti Tutti i racconti sono allegri Non tutti i racconti sono storielle felici Quindi Per ora riesco a rilassarmi Riesco a godermi veramente tanto la lettura Però con i racconti È un periodo di racconti E poi Joseph Conrad Non avevo tifone E nemmeno Harry Foster Voglio i vostri consigli Voglio i vostri pari su questi libri Che io non conosco Ma cercando un po' su internet E poi erano a trovare qualche recensione Qualche opinione E ditemi voi Se li avete letti Se li avete sentiti nominare all'università Studiando Io spero che Questa è finita la Summer Challenge Sanno le mie Prossime brevi letture Che comunque Ti regono in un paio di giorni Tutti i quanti Voglio proprio capire cosa hanno da dire E Ok Piccolo ma Secondo me Di qualità Alla prossima video ragazzi Ciao